Il giorno è la storia. Oggi è il 27 dicembre. 1947, firmata a Roma la Carta Costituzionale. 1831, Charles Darwin si imbarca verso il Sud America e le isole Galapagos. 1968, l'Apollo 8 rientra sulla Terra, ammarando nell'Oceano Pacifico. Commenta il fatto del giorno Sandro Neri, direttore di Il Giorno. Oggi parliamo della strage di Fiumicino del 1985.